ciao buongiorno a tutti vediamo la situazione sul bund utilizziamo candele giapponesi e per una situazione di più ampio respiro time frame weekly ovviamente trend primario è e resta rialzista interessante la situazione delle ultime settimane dove appunto stiamo vedendo il cfd abbiamo uno storno anche abbastanza profondo da area 180 179 70 siamo a 174 probabilmente lo storno potrebbe non essere finito vista la candela di alcune settimane fa molto importante quasi una marubozzo perfetta adesso stiamo vivendo delle settimane di rialzo ma per il momento non riusciamo a superare i massimi di questa candela e si sta andando pian piano configurando quello che potrebbe sembrare un piccolo canale rialzista che fa semplicemente una sorta di rally di brevissimo periodo contro quello che è il trend attuale di medio cioè al ribasso per cui ecco ci sembra che l'eventuale rottura ribasso di questo canale quindi andare sotto i 173 50 potrebbe dare luogo alla seconda gamba ribassista ossia questa è la prima gamba ribassista stiamo facendo adesso una sorta di pullback e sotto appunto il livello di 173 50 potremmo avere la la nuova gamba ribassista a chiudere quello che è il movimento di storno quindi per chi segue le teorie di elliot onda onda b e onda c è anche interessante vedere come il livello che si potrebbe andare a testare per poi posizionarsi almeno secondo me a favore del trend primario cioè long è un livello che ci dà chiarezza o comunque una buona probabilità sia usando la griglia di fibonacci perché potremmo andare in area 168 dove il 50 per cento del ritracciamento e 168 è anche un livello statico interessante perché coincide con questo livello di resistenza che era stato fatto per cui ecco un retesto in quest'area troverebbe non solo il livello di fibonacci ma un'area supportiva e è anche un livello interessante perché togliamo un attimo fibonacci per lasciare il grafico pulito perché se noi andiamo a vedere le medie di lunghissimo periodo utilizziamo in questo caso la 50 che rappresenta le 50 settimane di un anno perché siamo sul grafico settimanale eccoci vediamo come corrisponde esattamente al livello ipotizzato sia come supporto statico in questo caso che come livello di fibonacci quindi monitoriamo area 168 e 50 dove cercheremo poi sul timing daily candelo pattern rialzisti per entrate long a favore di quello che è comunque il trend primario di lungo periodo vi invito a fare il download anche della nostra app di scatta col trend per avere altre analisi che sono in esclusiva presenti solo sulla app e anche dei video didattici per chi inizia a fare trading un saluto a tutti